Una rete di donne e per le donne è la sintesi del progetto europeo Ring presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. L'obiettivo è creare un sistema di infrastrutture di supporto alle pari opportunità, a partire dalle attività e dei servizi utili a migliorare l'autonomia e l'occupabilità delle donne sul territorio. Nell'ambito del progetto Rete in genere si inserisce anche l'osservatorio sulle parità e le pari opportunità del comune, strumento a disposizione delle donne della città che servirà anche ad informare sulle iniziative dell'amministrazione in tema di promozione dei diritti e contrasto alle discriminazioni di genere. Realizzato con il contributo di un'ampia rete di associazioni e organismi territoriali ed internazionali, nel progetto rientrano anche azioni di studio e ricerca sulle condizioni di vita delle donne, lo sviluppo di piani di azione nelle dieci municipalità e l'attivazione di percorsi formativi per l'inserimento nel mondo del lavoro.